Credo che sia chiaro l'intento del Movimento 5 Stelle, era già nelle parole del mio collega Carlo Sibilia, ma lo voglio ribadire. L'intento non è quello di uscire da un modello imperialista americano e metterci nelle mani di un nuovo modello. L'impegno è chiaramente quello di fare, come diceva Carlo precedentemente, il bene degli italiani. Questo significa creare una forma di governo nazionale dinamica, che riesce a evolversi insieme ai tempi, che cambia, che vede oggi ai BRICS come una possibilità, allora quando i BRICS rimarranno dentro quegli intenti che hanno nel loro statuto di oggi, se domani dovessero variare, come è variata la Nato in questi 50 anni, un governo intelligente deve avere la capacità di dire questo non è più quello che avevamo scelto e quindi uscire da questa forma e iniziare in un'altra forma ancora. Questa è quella forma di governo che noi sogniamo, ma soprattutto una cosa che ho notato nelle parole di Leonidas, la capacità di creare una forma di governo, noi abbiamo depositato tutte le proposte di legge che vanno in quella direzione, che sia esattamente emanazione diretta del valore del popolo, perché se il popolo ti dà un'indicazione politica, tu devi seguire quella indicazione politica, altrimenti stai tradendo il mandato del popolo, come in questi 50 anni siamo stati traditi da tutti i governi che si sono succeduti. Aggiungo una cosa, perché ho percepito le vibrazioni di quest'aula quando parlava l'ambasciatore cinese, ma anche in generale altri discorsi che sono stati fatti, non stiamo sposando il modello di sviluppo cinese, nemmeno quello sudafricano, come non abbiamo sposato quello americano, si sente lo stesso tanto. Stiamo solo dicendo che rimanendo dentro la capacità nazionale di fare le scelte giuste per noi, si può comunque avviare un dialogo con altre realtà per far sì che ci sia della cooperazione e non della schiavitù con altri paesi. Per questo abbiamo fatto un convegno sull'Alba, perché crediamo che lì ci sia qualcosa da prendere dal punto di vista non di opportunità, ma di collaborazione e di best practice. Stiamo iniziando a parlare oggi con i BRICS, due blocchi che sono totalmente differenti, e ci pensate bene. Ma che comunque possono darci qualcosa di positivo in termini di cooperazione. Parleremo in futuro sicuramente di altre possibilità per l'Italia, ma voglio ribadire questo. Il Movimento 5 Stelle è per la sovranità del popolo italiano, in quanto movimento politico italiano, e crede che il popolo italiano debba avere tutte le possibilità per accrescersi nel modo migliore, che per noi è sostenibile sia a livello economico, ma soprattutto a livello di crescita reale, che deve essere la crescita della felicità e non la crescita soltanto del PIL. Questa è la nostra visione e ci rivedremo con altri incontri come questo. Grazie a tutti per essere venuti.